Con Ivan Clemente parliamo di questa tre giorni di Festa dell'Unità qui a San Martino, una tre giorni di dibattiti e soprattutto di confronti. Diciamo una prima volta che si è calati veramente nel vero senso della Festa dell'Unità. Sì, intanto io ringrazio UserTV per la partecipazione alla Festa dell'Unità. Sì, come hai detto tu, abbiamo toccato temi di fondamentale importanza. Siamo partiti con la prima serata per quanto riguarda il referendum e le questioni che ci vedono votare sì al prossimo referendum del 4 dicembre. Ieri sera abbiamo avuto ospite l'assessore regionale Sonia Palmieri. Anche questo è stato un incontro veramente molto interessante. Ci ha spiegato tutte le formule che si stanno aprendo in Regione Campania per quanto riguarda il lavoro giovanile e non solo. E stasera chiudiamo con l'assessore Chiara Marciani parlando di formazione e di giovani. Quindi ritengo temi di fondamentale importanza per la Valle Caudina. Una domanda che noi giornalisti facciamo spesso. C'è reticenza verso la politica in questo ultimo periodo? Sì, sì, sicuramente. È molto difficile far comprendere ai cittadini, ma penso anche a livello nazionale. Proprio far avvicinare alla politica. Purtroppo la politica in questo ultimo periodo sta dando degli esempi che era meglio evitare. Però noi che siamo addetti ai lavori ci dobbiamo sforzare per far cambiare idea ai cittadini e non solo.